Eccola tutta Raoc, col chiodo, dove sei? C'entra un papà, mamma, fratello, tutta la famiglia, ricchi e poveri, tutti. Vai amore, dici, dici. Ma io sono qui nel backstage dello Stentallen, che è un'arena al coperto, che contiene quasi 16.000 persone. E che cosa succede stasera? C'è la notte italiana, c'è un concerto di Drupi, dei ricchi e poveri, di mio padre, di mia madre e c'è anche mio fratello. E io voglio un attimo curiosare qua nel backstage, qua c'è Drupi, non lo so se... No, meglio non entrare da Drupi, i ricchi e poveri. E anche qui andiamo a rompere le scatole di là, nella mia famiglia. Hello! Guardate chi c'è qua. Posso entrare? Io entro lo stesso. Chi c'è qua? Eccolo! In diretta da Montreal, perché voi dovete sapere... Un assalto in diretta. Un assalto in diretta, ma tu stai facendo le prove, un po' di canto? Che devo fare? Vesti la giubba e la faccia in farina, la gente paga e il rider vuole qua, e se il king ti invola, colombina, ridi... Pagliaccio! Pagliaccio! E ognuno ti applaudirà! Che mazza! Questo è per te, se ne ne sono sopporti. Leoncavallo! I pagliacci di Leoncavallo, così, d'amblè! Ma tu così vai, prendi e parti, Albano! Che meraviglia! Da quando sono nato, prendo e parto, e la mia vita è tutto un viaggio, sia cantando che osservando. Ma tu devi sapere che questo selvaggio, oggi, è arrivato alle otto e mezzo stamattina dal Montreal, dove ieri sera ha fatto un concerto. Ma dove la trovi, sta tempra? La tempra contadina mi ha sempre salvato. Ma non me l'hai data, sta tempra contadina ora, io mi vedo. Ma tu non l'hai accettata. Ma adesso dobbiamo iniziare, senti, dammi un po' di spoiler, raccontiamo un po' alle persone a casa, cosa canterai stasera? Questa sera canterò tutto quello che mi gira, mi devo mettere d'accordo con tua madre per vedere quale vuole fare lei, quale voglio fare io, quale facciamo insieme, e comunque sarà un successo. Quindi non mi puoi spoilerare nulla. No. Va bene, ti lasciamo qua a cantare Leon Cavallo. Sì, vorrei dirti, mi raccomando, Serena. No, no, mi raccomando, diglielo, perché vi lo ripeto pure io qui, oramai siamo in questo maternage assoluto. Mi raccomando, mi raccomando, difendi sempre bene l'onore della famiglia. Ma questa non me l'aveva mai detta. Famiglia. La famiglia, adesso ti porta. Senti Albano, una cosa volevo chiederti. Ma è vero che vai a Sanremo? Che so. Mi ingira voce che sarai a Sanremo. Beh, a Sanremo si può andare in tanti modi. Tu dici per cantare? Sì, per cantare, non lo so, se ci dai qualche anticipazione, una notizia. Guarda, giuro, giuro che ho parlato con chi devo parlare, dobbiamo incontrarci per vedere se accetta una delle canzoni che ho già preparato. Se è sì, sarò. Se non è sì, non ci sarò. Quella dei Memos? Che Memos? Chi sono i Memos? Come fai a Sanremo? No, mi prego. Non lo so. Bravo. È il nostro gruppo degli affetti stabili di oggi un altro giorno. C'è pure Memo Remigi, ovviamente. C'è Memo. Ma che dovete, Sanremo pure voi? Sì, dobbiamo andare a Sanremo a cantare, papà. Allora ci scontriamo, dai, ci scontriamo e salremo, va bene? Va bene, affare fatto, muta là, baby. Grazie, sei sempre il numero uno. Ti lascio riscaldare la tua voce. Viva la tempra contadina, vai. Un abbracione e buon tutto sempre. Sempre, sempre. Andiamo, proseguiamo il nostro giro dei camerini della famiglia. Qui abbiamo il nostro Iari. Ma pure tuo fratello c'è. Il nostro spirituale della situazione. Eccolo, eccolo in penombra che ci aspetta. Che sta facendo sua... Cosa stai facendo, scusami esattamente? C'erano degli incensi dentro una banana. Che sta... Medito. Ma lui sta meditando. Perché prima del concerto... Ti stiamo disturbando? No, ma per niente. Chi siete? Che fanno? Chi siete? Che ho? Ci sono i nostri amici a casa, ci sono i nostri affetti stabili, ma dici una cosa stasera. Cosa canti? Stasera canterò Hallelujah. Ah, che bello. Hallelujah. 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 Vabbè, la canti meglio te di me. Va bene, ti lasciamo meditare. Saluta Serena. Ma non è detto. Saluta Serena, saluta tutti quanti a casa. Non è detto. Romina, fai quella, eh? L'avevi presa bene la nota. Siamo Alan, che fa la sua magia tra di noi. Che sembra la nostra, la sua magia? Sì, sì, sì. C'è Alan che ci vuole bene. Ah, c'è Alan Gainsbourg che ci vuole bene, è vero. Va bene, ti lasciamo meditare qua. Altrimenti ti disturbiamo troppo. Noi continuiamo il nostro tour nei camerini. La nostra Romina Vacante continua di qua. Seguitemi, seguitemi, seguitemi. Prima che vado a sbattere contro un'altra porta. E adesso ecco qui una soggetta che io conosco molto bene. Troppo bene. Busso? Ma no, ma che ci frega, entriamo. Eccola! Ma scusa, ma che state a fare? Ma tu non ti devi preparare per il concerto? Ci stiamo preparando, eh? Giocando a carte? Così per stemperare il nervosismo. Ah, sì, ah, ok. Quindi fate le bische. Io pensavo un qualche minuto e allora abbiamo pensato, oh, voi non barate adesso che io mi distrago a parlare con lei, eh? Beh, mi fa piacere che tu ti prepari così. Ma a cosa gioca? Insomma, stasera, io vorrei sapere, dopo tre anni che tu non canti. No, scusa, prima, adesso mi dico, a cosa state giocando? A Burraco. A Burraco, certo. A Burraco stiamo giocando. No, va bene, ok. Vai, Romina, una. Ti piace? Lo giochi anche tu, Serena? No, io sono, io non so giocare a carte, cioè non mi annoio, purtroppo io sono un po' matta, per cui a me giocare a carte non mi prende tanto. Però, vabbè, però è un esercizio invece di intelligenza. E poi non mi piace perdere. Vabbè, scherzo, non è vero. Però non sempre si può vincere. Ma certo, you can't always get what you want. Bisogna saper perdere. Zanza. Non sempre si può, vai, vai, vai. Com'è, Romina? La mia, Romina. Bisogna saper perdere. Zanza. Non sempre si può vincere. Zanza. Ma questa non è il canzone. No, questa no, non è il nostro, questa canzone. Però ci sta, ci sta sempre bene questa canzone. Visto che papà non ha spoilerato nessuna canzone di stasera, che canzone vorresti cantare tu dopo tre anni che non canti, dato la pandemia? Voglio cantare tutte le canzoni che conosco. Tutte. Tutte, tutte, tutte. Non una sì, non una sì, non una. Non voglio sfogare tutto in una sera. Aiuto, ragazzi. Sì, stasera ne vedremo dire belle. Ma assolutamente. Qual è la canzone? Romina, ma la canzone che ti piace di più, a parte le vostre ovviamente, qual è la canzone del tuo cuore proprio e che vorresti cantare? Beh, a me piacciono, io sono sempre, c'è un posto tenero nel mio cuore per tutte le canzoni dei Beatles, devo dire, devo ammettere, questo sì. Sì, and I love her, adoro quella canzone lì, ma tante dei Beatles. Però io stasera farò una cosa speciale, reciterò una poesia in tedesco, una poesia mia, scritta nella preistoria. Che la capiremo tutti! Perché penso che quasi tutti parleranno il tedesco stasera. Certo, io no, però. Sono impegnata, l'ho fatta tradurre, la reciterò proprio come un omaggio in tedesco. Bene, brava. Ma è la prima volta che cantano. Sono contenta. Vabbè, io non voglio interrompere. No, volevo sapere se è la prima volta che il cantano avviene, peraltro in uno stadio dove hanno cantato nell'ordine, adesso ve lo vengo a dire. I Gwynn, i Led Zeppelin, Whitney Houston, Robbie Williams, Mariah Carey, Cher, Ennio Morricone, Celine Dion, Prince Sting, Lady Gaga e Rihanna. Non so, qualcun altro. Mancavate solo voi. E che centriamo noi qui, allora? Amore, no, voi sempre. Ci vedranno i Memos, voglio sapere se Romina or Power invece sa chi sono i Memos. Comunque faremo del nostro meglio lo stesso. C'è Massimo Cannonetta che chiede, tu conosci Memos ovviamente? Memos? Sì. I famosi Memos che andranno a Sanremo? Bravo, Romina! Numero uno! Numero uno, Romina! Yeah! Scusa! Vai, Memos, vai! Ma tu saresti anche disposta, Romina, Romina, a presentarli tu a Sanremo, cioè nel pacchetto con questi sciagurati qui. Guarda la faccia di Memos. Guarda Memos, guarda come... Saresti anche disposta a un po' di... E perché no? E perché no? Io sono rimasta anche affezionata a Memos dopo quella edizione triste di Fantastico 2. No, bella, bella edizione di Fantastico 2. Tremenda, tremenda. Ma tu sarai triste. Va bene, dai, diciamo che insomma il pacchetto c'è. Romina, ma dopo tanti... Cioè, ma c'è ancora l'emozione di esibirsi così di fronte a tanto buon pubblico così, insomma, voluminoso, un evento simile, no? Poi ci sono appunto anche ricchi e poveri e drupi. C'è sempre l'emozione oppure quella oramai è passata? No, l'emozione c'è sempre. Quella non può mancare. Se non ci fosse l'emozione non potrei dare anche un'emozione al pubblico. Per forza c'è, c'è sempre, sempre, sempre. Però non quella che ti paralizza, quella che poi ti sprona a tirare fuori delle cose simpatiche. Ma è vero. Quindi l'adrenalina... Faccio anche io un'invasione di campo stasera e inizio a cantare. Sì, dai! Che tu hai una bellissima voce. Sì, ogni tanto, quando ci azzecco qualche nota. Romina, ma non è vero. Dobbiamo far lavorare un po' su. Si scherza, si scherza. Romina Power, se non mi capite con chi parlo. Romina Power, dobbiamo lavorare un po' sull'autostima di questa ragazza. Ci sentiamo? E poi lavoriamo un po' sull'autostima. Di quale ragazza? Io? La mia? Facciamo un corso di autostima collettivo. Collettivo, giusto. No, è che è reverse psychology, perché se tu ti sminuisci, gli altri dicono ma no, ma invece sei brava. Invece se tu dici sono brava, gli altri dicono fai schifo. Eh no, mi fai molto più intelligente di quello che realmente sono. No, tu sei più intelligente di quello che sono. Eh beh, io non volevo interrompere il vostro gioco con la nostra impulsione nel camerino. Quindi tu ti stai tranquillizzando per il concerto stasera, giocando a carte. Sì, però dobbiamo finire e questi li devo tenere d'occhio perché tendono a essere un po' eh. Ma voi sembrate un gruppo a voi, cioè i due in due. Ciao Serena, ciao Massimo, ciao a tutti lì in studio. Una cosa sola, chi vince a Burraco in genere? Chi vince secondo te? Chi? Evviva! Non è vero, Serena, non è vero. E noi usciremo canticchiando. Bisogna saper perdere. Non sempre si può vincere. Grandi, grandi. Va bene, Serena, ecco. The White Cliffs of Dover. The White Cliffs of Dover. Eccoci, ci ha raggiunto di nuovo Iari. Dove stai andando a fare le prove tu sul palco? Allora, se volete, io vi accompagno, anzi, lui accompagno e voi accompagni. Sul palco dove stanno per iniziare le prove, il soundcheck che si fa, attenta la sede, dove si fanno di solito le prove prima del concerto. Vogliamo andare più veloci? Guarda, mando una clip e vi ritrovo sulle prove. No, dai, perché anche noi vogliamo ricantare felicità e un po', dai, ci sarà un mini medley, vai. Shazam, Shazam E la voglia di volare Di sognare insieme a te Il volo giusto per amare Senti, nel maria c'è già la nostra canzone, l'amore che fa come un pensiero che sa di felicità Devi crederci, ci sarà una storia d'amore ed un mondo migliore Ci sarà un azzurro più intenso e un cielo più immenso Nostalgia, nostalgia, canaglia Di una strada, di un amico, di un bar Di un paese che sogna e che sbaglia Ma se chiedi poi tutto ti dà Romina, sei arrivata sul palco? Siamo sul palco nella postazione del maestro Alterisio Paoletti C'è Iari che ha iniziato a schiterrare per le sue prove Sentite, sentite che stanno facendo le prove audio Qua ci sono i musicisti, i nostri fedelissimi musicisti con cui i miei genitori suonano da tantissimi anni C'è il nostro Adriano Martino, saluta Adriano, saluta oggi e l'altro giorno Ciao Ciao a tutti, ciao Serena Un abbraccio a tutti Evviva la musica veramente E allora se non avete bisogno di altro dalla vostra Romina Vacante Io vi lascio e intanto mi assisto le loro prove Romina torna presto che ci manchi C'è qui Francesco che voleva dirti una cosa No Romina ti sono vicino, ti mando un abbraccio Perché io penso spesso e volentieri a una famiglia particolare Venendo qua in realtà faccio terapia Perché capisco che poi in giro c'è anche altro Ma a noi la follia piace perché un po' di follia è il sale della vita Ma chi è che vuole essere normale nella vita? Vogliamo tutti essere Vai ragazzi, saluti a tutti